Nel corso della notte si sono svolti a San Giorgio Ionico opere di igienizzazione urbana così come precedentemente annunciato dall'assessore Cinieri e ribadito dal sindaco Fabiano nel corso dell'ultimo video messaggio pubblicato dalla nostra redazione. Un'operazione svolta per maggiore sicurezza e tranquillità dei cittadini che deve essere potenziata soltanto da azioni di responsabilità da parte degli stessi nel rigido rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in materia di contenimento del contagio del virus covid-19. Restiamo a casa e usciamo solo per motivi strettamente necessari consentiti. Ne va della nostra vita. Grazie a tutti.